Terzo film italiano in concorso, oggi alla mossa del cinema di Venezia, Qui rido io sulla vita di Edoardo Scarpetta, l'inviata Virginia Volpe. Una grande famiglia di attori, la Napoli dei primi del Novecento, il teatro che cambia e la stella di Edoardo Scarpetta. Terzo film italiano in concorso, Qui rido io, con Tony Servillo, diretto da Mario Martone e coprodotto da Rai Cinema. Biografia immaginaria del grande commediografo, capostipite di una dinastia, padre naturale di Edoardo, Peppino e Titina de Filippo. Si parla della questione ucraina con Reflection, film politico, che racconta un medico fatto prigioniero dai militari russi. Riflessione sul destino dell'umanità in guerra, ma anche storia di una relazione padre-figlia. Il vecchio West alla mostra del cinema di Venezia con Old Henry fuori concorso, cavalli al galoppo, sparatorie e un uomo misterioso ferito con una borsa piena di dollari. E finisce così questa edizione del telegiornale. Prossimo appuntamento.